Siamo a vedere di troppo rispetto, quindi rungo il tuo, perché so, caro Aldo, che hai deciso di cantare un brano che non hai mai fatto sul palcoscenico. Hai detto, lo faccio, per la prima volta voglio rischiare e vedere come va. Quindi siamo tutti concentrati per capire come te la caperai con Riptide di Vance Joy. Un applauso ancora ad Aldo! Prova, prova, è acceso, vai Aldo, vai! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!